Mmm, allora, devo trovare un termine che renda ancora interessanti i video sul fantacalcio a poche giornate dalla fine, tipo regola del 72 che ha fatto la fortuna di questo canale, ma qualcosa di più accattivante, in inglese, gli underdog, ah no, li ha già coniati il prof, i crack hunter, ah no, li ha fatti carmi, il re cappone, ha fatto ricosta, che poi tra l'altro il re cappone sembra più un pollo gigante con la corona, il re cappone, ma vabbè, no, deve essere un termine che resterà nella storia del fantacalcio, un qualcosa che indichi un valore, trovato totalmente a caso, eh, che possa diventare un must tra i fantallenatori, in inglese perché fa figo, trend, parola che sta bene dappertutto, che identifica una conoscenza per il futuro, team trend, bello, team trend ponderato, che oltre alla divinazione a cazzo, ci unisce anche lo studio, ok, team trend ponderato, sì, ma cos'è il team trend ponderato? Canta consigli per la ventisettesima giornata, giornata importantissima, pregna di sfide salvezza e di sfide per la zona Europa, quindi giornata difficilissima dal punto di vista sia calcistico che fantacalcistico, allora ci verrà in aiuto, oltre alla regola del 72, anche il team trend ponderato, e cos'è il team trend ponderato, dunque vi chiederete, allora chi guarda ogni settimana il video del kit del canta, sa che ho introdotto questo valore da qualche settimana, praticamente sto creando un algoritmo basato su valori offensivi e difensivi delle squadre di serie A, riferiti alle ultime tre giornate, ponderato appunto con lo studio che faccio settimanalmente delle partite, per cercare di prevedere il numero dei gol di una determinata sfida, che non è quindi un indovina il risultato del match, ma più un calcola l'andamento della sfida. Scorsa settimana ad esempio ho azzeccato 7 previsioni su 10, e questa settimana svelo questo indice nel video dei cantaconsigli, in questo video, insomma di settimana in settimana lo rimbalzerò da un video all'altro, almeno ve li dovete guardare tutti. Vabbè iniziamo con l'anticipo, ovviamente grazie a Pantalab, iscrivetevi dal link qui sotto in descrizione per avere accesso ai miei indici di schierabilità, e dici Lorenzo ma noi li vediamo in questo video, eeeh ho capito ma li vedete il mercoledì, poi li cambio giornalmente, mercoledì sera, giovedì, venerdì, in modo che arrivate, in modo che arrivate, arrivati in moto, no, in modo che arrivate al momento della chiuso stanco, al momento della consegna della formazione, con gli indici di schierabilità del canto aggiornati in maniera certosina. Ok, allora, piccolo disclaimer, come per lo scorso video, anche questa settimana il video esce di mercoledì, prima dei recuperi della serie A, porca miseria, questa supercoppa maledetta che ha spostato la ventunesima giornata, centellinata per tutto quanto febbraio, e ragazzi, dunque, per quanto riguarda appunto Sassuolo, Atalanta, Napoli e Inter, varrà sempre lo studio dei ruoli che potranno avere dei benefici in quella determinata partita, ma poi ovviamente per sapere i giocatori infortunati, o soprattutto i giocatori squalificati, dovremmo aspettare appunto le mie live di venerdì, e vi ricordo, su TV Play, sul canale Viola, venerdì alle ore 15, poi passo alle 16.45 su Fanta Calcio TV, sempre sul canale Viola per il kit del canto, e poi venerdì alle ore 19, qui su YouTube, la canta live del prepartita, prima di Lazio Milan, ed iniziamo appunto con Lazio Milan, venerdì alle ore 20.45, allora Milan che non ha perso in 10 delle ultime 11 partite, andiamo subito a vedere la regola del 72 su Fanta Lab, eccoci qua, allora immobile, sì, con 8.13 di Fanta Media, questo che avevo detto io, immobile, e ti prendetelo immobile, e ho detto, sì, e prendi immobile, prendi immobile, prendi immobile, Felipe Anderson bene, bene Luis Alberto, male Zaccagni, Cataldi, Marusic, Romagnoli, Lazare, la difesa della Lazio, male, 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 Milan, bene Giroud, bene Leao, che è ritornato finalmente a livelli accettabili, bene Loftus-Cic, bene Pulisic, male la liga di centrocampo, Renders, ben Naser, male Teo Hernandez, ne abbiamo parlato lunedì sera nei Fantastici 4, su Teo Hernandez, e in questo momento bisogna schierarlo, o preferire qualche altro giocatore, Teo Hernandez, un giocatore che si continua comunque a schierare sempre male, ciao, bene Gabbia, non so perché non ci sia il pollicione verde, non riesco a capire perché, è malissimo, ma è gnana, andiamo subito al recap, previsto un 1-0 Lazio, Team Trend ponderato, ting ting, eccolo qua, 3, dunque previsti 3 gol in questa sfida, quindi superiore alla mia previsione, alcuni eventi con percentuale, c'è anche tutta la scritta lì, alcuni eventi con percentuale di realizzazione minore del 60%, quindi possibili, ma non probabili, potrebbero invece realizzarsi, dunque attenzione, ma di quali eventi parliamo? Perbacco, sono gol della Lazio su tiro da lontano, che invece ha una percentuale del 71%, dunque sicuro di realizzarsi, sì e quindi per quanto riguarda il tiro da lontano, direi Luiz Alberto è consigliato, Cataldi, nonostante il gol questo mese la fantamedia non è bellissima, dunque io Cataldi non lo schiererei comunque sia in questa sfida, forse meglio Guendusi, forse, oppure Sorpresa Camada, così no, vabbè no, non esageriamo, la metto Sorpresa Camada, la metto Sorpresa Camada, non è, l'ha parlato benissimo Sarri in conferenza stampa, quindi non lo metto Sorpresa Camada, va bene, e giocata individuale Lazio, e dunque attenzione, attenzione a Felipe Anderson, che si può schierare in questa sfida, tolgo il pollicione verso a Zaccagni, per il resto la giocata individuale della Lazio, i Saxen, no, credo che mi fermerò a Luiz Alberto, Felipe Anderson è immobile, per quanto riguarda il Milan, invece, gol possibili, non probabili, da attacco sulle fasce Milan, dunque attenzione a Leao, che si schiera, e anche Pulisic, che si schierano per bacco, è giocata individuale, allora, io il gol di Loftus Cic, sinceramente, posso intravedere, non una sfida che, guardando forse le debolezze delle squadre, viene fuori da 1 a 0, ma che poi fondamentalmente può essere una sfida da 2 a 1, 1 a 2, 1 a 1, ci potrebbe stare anche un gol di Loftus Cic su inserimento, dunque, io, sinceramente, lo schiero, non lo schiero Benassero, non lo schiero Renders, Teo Hernandez, visto che è previsto un gol d'attacco sulle fasce, potete schierarlo, non è il mio primo pensiero scelto di giornata, così come Gabbia non è la mia prima scelta di giornata, ciao, lo evito comunque, Magnan, per me Magnan un gol lo prende in questa sfida, se posso, evito i portieri, però è difficile, ragazzi, questa giornata, perché, appunto, essendoci sfide salvezza e sfide Europa, e tutte sfide da gol, fondamentalmente, e ai portieri, ragazzi, è difficile sceglierli, dunque, direi che scartiamo troppo grasso, evitando sia prove del che Magnan, potreste pensare di schierarli, dalla panchina qualche sorpresa, così, De Botti, intanto andiamo a vedere che non ci sarà, Patrick Rovella per la Lazio, Pobega, Iovic squalificato per il Milan, attenzione a Ciucuese, io su Ciucuese ho messo 6.2, perché? Perché da quella parte, avevo detto che Marusic in questo periodo non è in forma assolutamente per niente, magari entra un Ciucuese, fresco, con un Marusic stanco, potrebbe fare la differenza in questa partita, potreste pensare di schierarlo, ci potrebbe stare per la Lazio, sulla Lazio c'ho sto gol dalla distanza che mi frulla nella testa, io, no, devo mettere la stellina su Camada se non sto male stanotte, non ce la metto, però lo clippo in modo che se segna Camada posso dire, guardate la mia sofferenza, la sofferenza di un uomo su Camada. Udinese e Salernitano, Udinese sono stati segnati meno di due gol e mezzo nelle ultime cinque partite, Udinese che ha mancato la vittoria in 27 delle ultime 30 partite in Serie A, Salernitano che ha perso 7 delle ultime 8 partite, dunque due squadre che una perde da una parte, una perde da un'altra e quindi, sì, la tiro fuori, carta parkour, perché chi vincerà? Boh, pareggia, non se sa, andremo a vedere nel kit del canta lo storico di questa sfida. Allora, per quanto riguarda la regola del 72, dunque le fantamedie del mese, dunque la forma dei giocatori per quanto riguarda l'ultimo mese, male tutto quanto l'attacco dell'Udinese, l'Udinese tra l'altro ha fatto due gol nelle ultime tre partite, dunque attacco che in questo momento, ah, ah, stento un pochino, bene, Zemura, Perez, Giannetti, dunque quella zona di campo, quella difesa di sinistra, quella catena di sinistra, va bene, che è la parte dove agisce Candreva, che ne abbia fatto un mese strepito su questo, dunque attenzione, l'altra fascia soffre di più che la parte dove agisce Castanoss, tra l'altro, curiosità, se andiamo a vedere la Salernitana, meglio Castanoss che Candreva questo mese, dunque schieri Castanoss e non Candreva? Mamma mia, no, presumo che forse sarebbe meglio schierare Candreva e non Castanoss, Castanoss, ma questa più, diciamo, per quanto riguarda lo storico del giocatore, andiamo a vedere l'Hillery Cap, 1-1 previsto, Team Trend ponderato, 2.12 gol previsti, dunque siamo assolutamente in linea con la mia previsione, con lo studio della partita, gol dell'Udinese da duello aereo, dunque ci sta Giannetti, ci sta Perez, Ferreira no, lo eviterei sinceramente, per quanto riguarda il gol di testa, ragazzi, attenzione a Luca, Luca ve lo metto come sorpresa, un pochino sta stentando in questo mese, ve lo metto come sorpresa, tolgo Pereira, perché per me un calcio piazzato di Pereira, è sempre pericoloso, tra l'altro Pereira in casa con la Salernitana, lo mettiamo in cacchio, direi non evitarlo, così come non evito Lovric, così come non evito Samarsic, ma comunque sia, in questa sfida non sono i miei due preferiti di giornata, comunque sia potreste pensare di schierarli, per la Salernitana, col previsto d'attacco al centro, bene Weisman, per Bacco, che si è inserito molto bene in questa squadra, io ragazzi ripeto, vado contro il mio studio, più Candreva di Cassano, tra l'altro Candreva, vanticipa il kit del canta, che contro l'udenese ha un bello storico, è la seconda squadra più castigata da Candreva, dopo l'Inter, per il resto non schiero praticamente nessuno, non riesco proprio a mettere il pollicione verso, su mano laspro che non ce la faccio, la mano va lì, non ce la fa, per il resto evito tutta quanta la difesa della Salernitana, dalla panchina, attenzione a Toven, non lo so, non lo so, per me la Salernitana farà una partita difensiva, per cercare di vincerla in contropiede, appunto con un attacco al centro, in contropiede al centro, per il resto, cool to action, iscrivetevi al mio canale, qualora non lo avete ancora fatto, mettete un like se questo video vi è piaciuto, ed abbonatevi solo 99 centesimi, per avere priorità di risposta nelle live, e soprattutto partecipare al fantacalcio degli abbonati, la sciurma del canta. Brenner, pensate di schierarlo in questa sfida? Io per schierare Brenner aspetto che segni, magari segni in questa sfida, non lo ritengo un gol perso, ritengo l'inizio della possibilità di schierare Brenner, Dia attacco al centro, Salernitana, Dia invece come sorpresa ci può stare, non ci saranno i boss, Bicciol, De Lopeu, squalificato Christensen per Ludinese, Pirola, Ghiomber, Pierozzi e Fazio, non ci saranno per la Salernitana. E passiamo a Monza, Roma, allora, Roma over 2,5 nelle ultime 7 partite, Roma che ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 6 partite, Roma che ha vinto 5 delle ultime 6 partite, e dunque anche qua carta parkour perché sono due squadre assolutamente in forma, come potete vedere dai pallini qui su Fantalab, i pallini quelli sotto è il nome della squadra. Per quanto riguarda la regola del 72, bene Colpani, bene Pessina, bene Di Gregorio, male, tendenzialmente nessuno del Monza, guardate la difesa che si mantiene attorno al 6 in gallina di galleggiamento, per la Roma, Lukaku, e ci arrabbio bene, Di Bala, vabbè, super top, bene Pellegrini, bene Paredes, Male, Tersini, Angelinho e Christensen, bene per Bacco, svilare, andiamo al recap, allora 0 a 1, previsto per la Roma, incrociando i dati, team trend ponderato 287, quindi superiore a quanto previsto dall'incrocio dei dati, partita che potrebbe virare dall'1 a 1 all'1 a 2, con un evento tipo calcio piazzato, ed appunto Roma che potrebbe segnare sì su giocata individuale, quindi bene Di Bala, Lukaku ve la sentite tenerlo fuori, io no, però non è la prima scelta di giornata, visto questo Lukaku, bene il Sharawi, soprattutto perché è centrocampista, quindi ovviamente, certo che può segnare meno di Lukaku, ma è centrocampista, per Bacco è più schierabile di Lukaku, bene Pellegrini, Paredes, un assist può tirarlo fuori, e bisogna vedere le ultime da campi, perché se Di Bala riposa in questa sfida, per poi giocare contro il Brighton, e gioca Baldanzi, Paredes è rigorista, vedremo anche chi è l'arbitro, in questo momento il pollice ve lo tolgo, ma appunto è importante essere aggiornati sugli indici di schierabilità, perché? Perché un Paredes senza Di Bala, con un arbitro che dà rigori, e invece diventerebbe molto 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 interessante, Angelinio e Cristensen considerano schierarli, Mancini, boh, c'è probabilità del gol della Roma su calcio piazzato, io Mancini lo tengo, Mancini lo tengo, e... sì, Mancini lo tengo, ma io metterei anche Paredes, Paredes li batte tutti, non assist Paredes, lo tira fuori Paredes, al momento io lo metto, poi vedremo, per quanto riguarda il Mose, possibile, non probabile il gol d'attacco sulle fasce, si sposta col panni sulla fascia, può andare bene, ci può stare la sorpresa di Carboni, ci può stare un Pessina, sempre e comunque sul pezzo, un Di Gregorio da modificatore con la Roma, che molto spesso, non è che tramute in gol qualsiasi tiro che faccia, ci può stare anche di schierare Di Gregorio, per il resto io non mi sento di sconsigliare nessun giocatore del Monza, a parte Giuric, che non andrei a schierare, per il resto secondo me, verrà fuori una partita nel quale il Monza prenderà voti dal 6 in su, e sono tutti schierabili, la Roma uguale, secondo me, 1-2 gol li fa, e potrebbe portare a casa magari la vittoria, dunque dal 6 in su, quindi partita secondo me buona per il fantacalcio, dalla panchina, Smullin, vedremo se sarà titolare oppure no, per il resto per il Monza, non trovo nessuno in grado di cambiare la partita, per quanto riguarda la Roma, attenzione a Smull, che ha fatto molto bene nell'ultima partita, io ve lo metto come sorpresa, non saranno nella partita Vignato, Caprari, Ciurria, squalificati, Izzo, il Papu Gomez, al momento non lo sappiamo, stiamo aspettando ancora queste notizie dal Tribunale Spagnolo, che non arrivano, attenzione a Gomez contro la Roma, che è la sua seconda vittima preferita, per partecipazione al gol, un anticipo il kit del Canta, non ci sarà Abram, e in dubbio Karasdorp e Iorenti, non ha nominato Baldanzi, se non c'è Di Bala, potrebbe essere super schierabile, ma ragazzi, attenzione a Baldanzi, perché sarà il prossimo nome listato su Starks, il sito nel quale potete acquistare il token ufficiale dei calciatori della Serie A, dunque attenzione che Baldanzi verrà listato il 29, seguite Starks su Instagram, o seguitemi nel mio profilo Instagram, Lorenzo Cantarelli Official, vi darò le notizie più precise, perché Baldanzi sarà uno di quei giocatori, che appena listato, a un prezzo fisso, vedrà evaporare tutto quanto la sua riserva di token, e Baldanzi avrà una impennata subito incredibile e improvvisa, guardate, tipo Calafiori che ho dannato l'823%, Carnesecchi il 404%, Buongiorno il 353%, Scamacca il 128%, insomma, capite che in questo momento di crescita esponenziale delle criptovalute, trascinate da Bitcoin, pensate cosa può fare una criptovaluta legata al mondo del calcio, poi in più, possedendo i token dei calciatori della serie A, che sono effettivamente dei cartellini virtuali, in una parte del cartellino virtuale, potete schierare i vostri giocatori, di cui possedete il cartellino virtuale, nello Stars Game, il gioco attraverso il quale potete vincere dei premi incredibili, dove, ecco le quali, Airpods, Scooter Onda, iMac, iPhone, Mac Mini, insomma, le Playstation, insomma, un botto di premi, al momento non siamo tantissimi, dunque, vincere i premi non è difficilissimo, attenzione ragazzi, perché entrando in Starks, entrate così nel calcio del futuro, come fate, dal link qui sotto, in descrizione, oppure dal mio referral code, Canta15. Torino-Fiorentina, subito regola del 72, benissimo, Zapatone, uno degli attaccanti più in forma del mondo, in questo momento, e dell'universo in questo momento, con la navicella, Male Vlasic, Male Sanabria, Benericci, bene, benissimo, Bellanova, l'asse Bellanova, Zapatone, uno dei più belli della serie A, male la difesa con Sassanov, e Gigi, attenzione, che forse torna buongiorno, ma non lo sappiamo al momento, nella Fiorentina, benissimo, il Gallo-Velotti, bene Beltran, bene Buonaventura, dici, perché benissimo Belotti e bene Beltran, perché Belotti mi sta simpatico, quindi che volete, bene Cagliote, bene Viraghi, quindi bene i tersini, e Male, i centrali della Fiorentina, attenzione, quando schierate la formazione, soprattutto al Classic Recap, 1 a 1, Torino-Fiorentina, team trend ponderato, 2,56 gol, dunque in linea a quanto previsto, nello studio, dunque tra i due e i tre gol, e ci siamo a pieno, allora, allora, Fiorentina, che segnerà su giocata individuale, perché dico prima la Fiorentina, perché è leggermente superiore, il gol della Fiorentina, a quello del Torino, giocata individuale, che può fare, presumibilmente, Buonaventura, Beltran, o il Gallo Belotti, visto come il Torino, ha tenuto i centravanti della Roma, penso che possa essere fatta più, da un trequartista, Nico González, lo schieriamo o no, ma ieri a parte il rigore, bene, ben discretamente bene, allora, io non mi sento inconsigliabile, poi se sbaglia un altro rigore, mi dice, non è, sei proprio tonto, non ve lo sconsiglio, dai, mi tiro fuori da questa scelta, insomma, Sottil non lo vado a schierare, i terzini della Fiorentina, ci possono stare, perché il Torino segnerà, su contropiede, dunque, attenzione, magari al Torino, che segna in contropiede, il primo gol, e poi alla Fiorentina, che trova il pareggio, su giocata individuale, per questo motivo, Zapata, sul contropiede, non è che sia, super eccezionale, è certo che invece, un contropiede di Bellanova, concluso, magari, da un Vlasic, a sorpresa, ci potrebbe stare, o addirittura, da un Occhereke, dalla panchina, attenzione, ragazzi, è una sfida bloccatissima, e Occhereke, che va a segnare, il gol del momentaneo, 1-0, anche perché, secondo me, forse, questo Sanabria, in questo momento, non è proprio, in super forma, per il resto, non evitarei portieri, non vedo goleate, né da una parte, né dall'altra, sui centrali, secondo me, qualche errore, possono combinarlo, dunque, in una sfida, non da tantissimi gol, comunque, li eviterei, li eviterei, Rodriguez, forse, il migliore, qualora giocasse, Buongiorno, anche Buongiorno, non sarebbe, uno dei miei, primi, delle mie prime scelte, perché è stato fuori, tantissimo, il Torino, deve registrare la difesa, dunque, al momento, forse, forse, preferire qualcun altro, comunque sia, Scursta, Mese, Lovato, non ci saranno sicuramente, quarta, in dubbio, Quamero, ci sarà, così come Cristian, se ne ha anche Castrovilli, è in dubbio, per questa sfida. Dice Lorenzo, me mi voglio vedere, la partita della Fiorentina, con la maglia della Fiorentina, come facciamo, ovviamente, la vai ad acquistare, su CalcioStore24.com, il negozio line di magliette sportive, più belle ed economiche del web, guardate, quant'è bella la maglietta della Fiorentina, guardate, la potete vincere, ovviamente, poi, se siete abbonati al mio canale, con il fantacalcio degli abbonati, ma dici, no, la voglio vincere, io la voglio andare a comprare, guardate qua, la trovate a 26 euro, e se inserite il codice sconto LC, avete un ulteriore sconto del 10%, dunque, poco più di 20 euro, la maglia della Fiorentina, bellissima, e vi ci potete mettere sul divano, a guardare Torino Fiorentina, vi ricordo, calciostore24.com, codice sconto LC, ed ovviamente, citando la Fiorentina, non posso non citare i prodotti della Snap, partner sponsor della Fiorentina, partner sponsor di questo canale, ovviamente partner sponsor del video sugli arbitri, che uscirà giovedì, insieme al video del kit del canto, due video separati, ma che fanno parte della stessa famiglia di video, per andare a schierare la formazione, nella maniera migliore possibile, di cosa sono i prodotti della Snap, ma cliccate nel link qui sotto in descrizione, e andate a gustare un modo nuovo, per gestire al meglio la vostra salute, la vostra bellezza, il vostro fitness, o essere bello come il canta, usa i prodotti della Snap, io sto slogan, devo capire, chi l'ha scritto, chi l'ha scritto sto slogan? è orribile, vabbè proseguiamo, Verona Sassuolo, Verona che ha mancato la vittoria, in tutte le ultime sei partite, allora andiamo a vedere subito i campi, eccoci qua, Svideski male, Svideski era stato un consigliato, credo mio, di tutti quanti i Fanta YouTuber, che è possibile rigorista, invece non è che si è presentato benissimo, molto meglio Noslin, così come Falorruscio, così come Suslov, male tutta quanta la difesa del Verona, difesa del Verona che ha preso, un ultime 3-4 gol, neanche tanto male, ma fantacalcisticamente parlando, abbastanza, diciamo, voti bassini, per quanto è la del Sassuolo, non troviamo un pollicione, assolutamente verde all'insù, mese tremendo, esonero di Dionisi, Sassuolo da studiare, lo studieremo meglio, nel recupero, contro il Napoli, ed appunto venerdì, nelle varie live, avremo una idea, indicazione più precisa, dunque questa partita, fa un pochino storia a se stante, diciamo che in questo momento, vedo un 1-1, incrociando forze e debolezze delle squadre, Team Trend ponderato, 2.25, anche qua in linea con quanto previsto dallo studio, poi oltre al gol previsto dal Verona all'80%, c'è da capire se sarà più 2-0 Verona, o 1-1 Sassuolo, e voi direte sì, ho capito, ma il Team Trend ponderato, anche quello il dato non è preciso, visto che non sappiamo il Sassuolo, non dobbiamo tenere conto, visto che tieni conto, nelle ultime tre settimane, anche della partita contro il Napoli, dunque le partite dovrebbero essere 4, allora va bene, prenderò la macchina del tempo, andrò nel futuro, prenderò l'almanacco sportivo, ritornerò qua, e mi metterò a leggere l'almanacco sportivo, e poi riprenderò la macchina, ritornerò nel futuro, brum 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 brum, riporterò l'almanacco sportivo, no me lo tengo, perché lo devo lasciare lì, almeno ci gioco anche, divento ricchissimo, non faccio più video, Team, oh, vai di venerdì, lo vediamo, tanto accontentatevi, c'è diate uno studio, insomma, Verona sui duelli aerei, quindi, Sviderski, Sviderski è il centro avanti, il pennellone è avanti, io lo tolgo il pollicione verso, però, giocata individuale anche del Verona, Verona Sassuoli, Foloruscio, Suslov e Noslin, li metto dentro ovviamente, più di Duda, Duda non lo schiero, magari hanno schiato Serdar, colpo di testa, attenzione a Magnani, potrebbe essere la sorpresa di giornata, ancora tre soldi titolare, non si sa perché, gol del Sassuolo previsto su tiro da lontano, io al momento sconsiglierei tutti il Sassuolo, voglio vedere al momento, ad oggi sconsiglierei tutti, se proprio devo dire tiro da lontano, potrebbe svegliarsi magari l'Aurentè, che mettiamo come sorpresa, partita difficilissima in questo momento da schierare, eviterei forse tutto il Sassuolo in questo momento, non saranno della sfida Cruz nel Verona, Bianca e Berardi, che è da valutare, attenzione, ed in dubbio Erlich, ma appunto ne andremo a parlare venerdì, nelle varie live. Empoli-Cagliari, Empoli che non ha perso in tutte le ultime sei partite, Cagliari che ha mancato la vittoria in tutte le ultime sei partite, e quindi carta Super Saiyan, perché le vittorie dell'Empoli, questo straordinario Empoli, si amplifica con il periodo non proprio felicissimo del Cagliari, infatti guardate i pallini sotto al nome, due vittorie e tre pareggi per l'Empoli, due pareggi e tre sconfitte per il Cagliari, si amalgamano veramente bene, Empoli, bene Marin, bene Luperto, per il resto quest'Empoli, che vince e convince, l'Empoli le ultime tre giornate ha fatto ben sette gol, ha subito solo quattro, dunque vince e convince, però questa vittoria e convincimento non si poi trasla nei voti del fantacalcio, infatti vedete non ci sono voti trascendentali, a parte appunto Luperto e Marin, mentre per quanto riguarda il Cagliari, Luvumbo, Gaetano, bene, male tutti quanti, a parte anche la difesa, malissimo, 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 andiamo al recap, 1-0 Empoli previsto, Team Tread ponderato 2,62, dunque qua la mia previsione è leggermente inferiore, era il Team Tread ponderato, dunque attenzione a qualche evento possibile, che potrebbe diventare probabile, tipo, allora, Empoli gol su attacco sulle fasce, ci sta, quindi Cambiaghi, dai contro il Cagliari si schiera, Cambiaghi, dici non segna mai, non puoi consigliare, vabbè non lo sconsiglio, così come Giassi, non ve lo sconsiglio Giassi sinceramente, in questa sfida, gol dell'Empoli da giocata individuale, chi può far giocata individuale nell'Empoli, se non Zurkowski, e Zurkowski lo schiero, se non Niang, e Niang lo schiero, sono tutti e due dalla panchina in questo momento, non credo, Zurkowski partirà titolare, secondo me, tutti e due assolutamente schierabili, per il Cagliari, gol possibile, non probabile, d'attacco al centro, in mano ci sarà Pavoletti, dunque attenzione alla Padula, che invece potrebbe essere la sua sfida, lo metto come sorpresa, meglio Luvumbo e Gaetano che schiero contro l'Empoli, si possono schierare, per il resto, sinceramente, tutto quanto il Cagliari, ragazzi, non lo vado a sconsigliare, cioè Lorenzo non puoi sconsigliare 86.000 giocatori, ragazzi, ma quali giocatori, cioè, preferite che vi dicono schierare Mina e Dossena? Poi dici, però Nandes non me l'hai sconsigliato lo schiero, e lo schiero è nessuno del Cagliari in questo momento, dal cinto là in giù, nessuno, Gaetano, Luvumbo, la Padula, con l'Empoli, che ha preso 4 gol nelle ultime 3 partite, dunque gol ne prende l'Empoli, ne fa, ma ne prende, dunque ci può stare di schierarli, per il resto, la cinto là in giù, visto l'Empoli di gol ne fa, il Cagliari ha preso 5 gol nelle ultime 3, evitere di schierare chiunque, non saranno della sfida, Ebuei e Ciccio Caputo, che ha da valutare in dubbio Grassi, per il Cagliari invece, al Zadiacos, Mancuso, Pavoletti e Shomurodoff. Quante partite ci sono? Porra, c'è una serie a 18 squadre, almeno risparmio 10 minuti di video, Frosinone Lecce, Frosinone che ha perso 9 delle ultime 11 partite, Frosinone Under 2, Over 2,5 in 10 delle ultime 11 partite, Frosinone che ha concesso almeno 3 gol in tutte le ultime 4 partite, Team Trent Ponderato, che dia? Sembra aver rubato in questo momento il posto a Cagliari e George, bene su Le, bene Preccianini, bene Mazzitelli, difesa del Frosinone da non schierare, evitatela anche questa sfida, anche se Lecce ha fatto 0 gol nelle ultime 3 partite, difesa del Frosinone via Lecce, dove purtroppo è un'ecatombe di segni rossi, non c'è un giocatore sinceramente che convinca nessuno, il pauro maschirotto, annata tremenda, in attacco il disastro nucleare, andiamo a recap, prevede un 2 a 1 Frosinone. Team Trent Ponderato, 3,37, la più alta di giornata, dunque la partita con più gol di giornata dovrebbe essere, quindi 3-3, 4 gol, e viste le difese in notevole difficoltà, previsione assolutamente credibile, tra l'altro, stiamo anche in linea con lo studio, 3-3, 4 gol, 3 gol previsti, dunque ci stiamo, Frosinone che segnerà su calcio piazzato, quindi va bene Brescianini, va bene Sulevi, va bene anche Arruici, può star di schierarli in questa sfida, però lo metto come sorpresa, Frosinone che segnerà d'attacco al 100, dunque anche che dire, è schierabile, non è però la mia prima scelta di giornata, dunque il pollicione glielo tolgo, Lecce che segnerà d'attacco sulle fasce, dunque Banda e Alkvist, non sono le mie prime scelte di giornata, ma sicuramente sono due giocatori assolutamente schierabili, Sanzone dipende, perché non ho ben capito come voglia giocare il Lecce, nei ballottaggi, probabilmente Ocristovic o piccoli al posto di Sanzone, non credo voglia giocare con il falso 9, per il resto a difesa del Lecce, che io non andrei sinceramente a schierare, anche visto le fantamedie dell'ultimo periodo, Giandré attacco sulle fasce, dai, il pollicione glielo tolgo, il pollicione verso, dalla panchina niente di buono, secondo me da entrambe le parti, infortunati Marchizza, Calaia, Mateus Luswardi, Kuni, Bonifasi, Oiono per il Frosinone, Brancolini per il Lecce. E passiamo ad Atalanta-Bologna, la sfida più spettacolare prevista della giornata, Bologna che ha vinto tutte le ultime 5 partite, Bologna che ha segnato almeno 2 gol in tutte le ultime 6 partite, Team Trend ponderato, lo vedremo dopo, bene De Ketelare, bene Kupminer questo mese, bene Miran, Ciuk, bene Olv, bene Colasinaz, bene Scalvini, bene Carnesecchi, insomma bene tutti, tranne Derun, fatta calcisticamente parlando sempre, Ruggeri, e Ginsiti, attenzione, nel Bologna, bene Zirze, bene Fabian, bene Ferguson, bene Orszolini, bene Froiler, dunque tutta dalla cintola in su tutti quanti bene, e anche dalla cintola in giù, a parte Lucomi, tutti quanti bene, bene da Kristiansen, a Beuchema, guardate che fantamera mostruosa che ha, Posch, che ritorna a Posch, ha questo andamento sinusoidale, che porca miseria, fa un mese bene, un mese male, questo è il mese bene, quindi si schiera, bene Skorupski, andiamo al recap, eccoci qua, allora Atalanta che segnerà sul tiro da lontano, Bologna segnerà l'attacco sulle fasce, dunque previsto l'1-1, Team Trend ponderato 2,68, dunque previsti 3-2-3 gol, e rende plausibile appunto questa sfida, posso dirvi, se dovesse vincere una delle squadre che vince secondo me, vince l'Atalanta, 2-1 è più probabile per l'Atalanta che per il Bologna, dicevo tiro da lontano Atalanta, Koopmeiner ci sta, Mirancic ci sta, ci sta De Ketelare, si schierano tutti e tre in questa sfida, per il Bologna attacco sulle fasce, dunque bene Orsolini, non lo so, chi è che attacca dalla parte di Scalvini, Indoglie però, che è la parte dove è partito Leao, io Indoglie ve lo metto come sorpresa ragazzi, ve lo butto lì come sorpresa, per il resto attenzione anche alle fasce dell'Atalanta, dunque io il polliciotto verso di Ruggeri lo tolgo, certo che tutti questi pollici alti non li mettono, credo che il posce possa essere il più quotato di giornata, così come Biuchemann, così come Christiansen, così come Froiler, anche se Froiler è un ex della partita, io preso non vedo neanche il gol di Fabian, sinceramente, così come non vedo gol da Scalvini, né gol da Colasinaz, i portieri potrebbero far bene, soprattutto per il modificatore, per il resto, resto sui giocatori più talentuosi delle due squadre, dalle panchine, nei ballottaggi niente di che, per quanto riguarda l'attacco del Bologna, attenzione a Scamacca, che potrebbe partire titolare, attenzione se parte titolare Scamacca, è molto buono con lo switch, su Lukman voglio vederlo fare una partita bene, da Lukman pre Coppa d'Africa, al momento è uno da mettere in ballottaggio, secondo me, mentre per quanto riguarda il Bologna, dalla panchina non andrei a scegliere niente, non ci sarà Palomino da una parte, e Sumarò dall'altra. Big match, Napoli-Juventus, Juventus che non ha perso in 19 delle ultime 21 partite, allora, bene o Simen tornato benissimo, l'altra parte bene Vlaovic, perché c'è il polliciotto verso Vlaovic, come è potuto succedere, come è potuto accadere, per il resto, Varaschela è l'inna di galleggiamento, male il centrocampo del Napoli, male la fascia a sinistra, difensiva del Napoli, Di Lorenzo sta ritornando su valori accettabili, per la Juventus, bene Vlaovic, per il resto, un mese tremendo, e dunque troviamo tutto insufficiente, dalla cintola in su, e anche dalla cintola in giù, per Bacqua, anche su Scesni, e anche su Bremer. Andiamo a recap, 0-0 previsto, Team Trend ponderato, 1,90, dunque la previsione più bassa di giornata, per quanto riguarda i gol totali della sfida, e vista la mia previsione di 0-0, secondo me è anche troppo alta, questa previsione, allora Napoli, che potrebbe segnare soltanto su tiro da lontano, o si mette in schiera, Varaschelia, la scorsa settimana ve l'ho fatto tenere fuori molti ballottaggi, e questa settimana continuo della mia idea, che forse non sarà la partita di Varaschelia, se devo dire un tiro da lontano, preferisco togliere il pollicione verso a Politano, piuttosto che mettere il pollicione alto a Varaschelia. Difesa, continuo a ritenere la parte sinistra della difesa della Juventus, quella più debole, e che tra l'altro è quella dove agirà, dove sta? Olivera, Juan Jesus, cambia la sua sorpresa, e ci sta. Gatti ha deciso la sfida dell'andata, e non mi sento di dare il pollicione verso, così non mi sento di dare il pollicione verso a Bremer. Lo tolgo anche Shesny, non ritenendo questo una sfida, da tantissimi gol, sfida da 6, la possono risolvere i due bomber, Vlaovic e Osimè. Dalla panchina, non andrei a schierare nulla, sinceramente, chiesa ancora il pollice verso, no, chiesa il pollice verso, non glielo posso dare, non la sento proprio, e non ci saranno Ngonge, che è da valutare, Cagliuste, in dubbio anche lui, nella Juve, Rabiot, porca miseria, se ha rotto l'alluce, se lo tiene fuori un mese, per Indescilio, McKennie e Ken, in dubbio Danilo, squalificati lo sapete, Fagioli e Pogba. Ed andiamo a chiudere con la partita, forse più semplice del weekend, Inter-Genoa, tra l'altro sul kit del canto, andrete a vedere che è una sfida totalmente, a senso unico, soprattutto quando si gioca a San Siro, Inter niente Inter, perché Inter dovremo aspettare, appunto la sfida con l'Atalanta, per avere una statistica più precisa, andiamo subito quindi alla regola del 72, bene Lotaro, bene Parella, bene Di Marco, bene Mastori, bene De Vrij, bene Pavard, bene Darmian, bene Mkhitaryan, bene Aslani, bene Arnatu, bene Sommer, bene tutti, literalmente tutte, quindi che volete, Genoa, bene Reteghi, Gudmundsson, bene Pani, bene Fredrup, bene Martin, bene Martinez, insomma un Genoa, bene, contro un'Inter stratosferica, dunque attenzione, allora andiamo sul recap, previsto un 2-0, Team 3 è ponderato 3.18, quindi più di tre gol previsti nella sfida, dunque le giocate individuali dell'Inter potrebbero essere più di uno, infatti Inter che potrebbe segnare su giocate individuali, 83%, addirittura dunque Martinez si schiera, si schiera, boh Arnautovic, cosa è che non lo so, secondo me le giocate individuali possono venire più dalle fasce piuttosto che da Arnautovic, Arnautovic può spingere il pallone in rete, ok, ma la giocata individuale per me può farla più un Di Marco o un Darmian, preferisco mettere loro, difesa solida dell'Inter che si schiera, sorpresa Carlos Augusto dalla panchina mi piace, o anche sorpresa Frattesi dalla panchina mi piace, per quanto riguarda il Genoa non prevedo il gol, non schiero Reteghi, o almeno in una sfida dove l'Inter schiera una formazione decente, non schiero Reteghi, poi vediamo quanto turnover ci sarà, sinceramente metto in ballottaggio anche Gudmundson, ovviamente non vado a schierare Frendrup, non vado a schierare Martin, così come non vado a schierare Bani, così come non vado a schierare Martinez, ma sinceramente io magari la difesa e le fasce, del Genoa sicuramente le vado ad evitare, non sarà una sfida, c'è la Novlu, Quadrato, Sensi e Thuram, in dubbio Acerbi, non sarà una sfida Matturro e in dubbio Vasquez. Si conclude qui il video dei canta consigli per la ventisettesima giornata, vi ricordo giovedì, chitta del canta, analisi arbitri, venerdì, ore 15 TV Play, ore 16.45, fatta calcio TV, ore 19, canta live del prepartita qui su YouTube, e giovedì anche in live su TV Play, alle ore 15, e nel frattempo, ah, iscrivetevi, abbonatevi, like, mi raccomando, nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web, se ha capito la battuta, sei uno sozzone. a a a a a a a Grazie a tutti.